Dal 16 settembre prossimo la direzione strategica dell'ASP 5 di Messina, preso atto dei gravi episodi di violenza subiti dal personale medico, infermieristico e di supporto negli ultimi tempi, ha deciso di impiegare la vigilanza armata per 24 ore su 24 presso i pronto soccorso degli ospedali di Taormina, Milazzo, Barcellona, Patti e Sant'Agata di Militello. Nonostante le difficoltà economiche, dice il direttore generale Paolo Lapaglia, dopo aver disposto l'installazione della videosorveglianza in tutti i pronto soccorso, siamo riusciti a trovare nelle pieghe del bilancio anche la somma necessaria, occorrente per i restanti mesi del 2019, per mettere in sicurezza i pronto soccorso maggiori della nostra area metropolitana e tutelare il personale sanitario tutto, sempre più frequentemente oggetto di vile aggressioni, proprio nel momento in cui si prodiga per salvare la vita ai cittadini. Il servizio è stato affidato nel rispetto delle procedure di legge per il periodo 16 settembre e 15 ottobre 2019 alla ditta KSM, estendendo un contratto di cui la ditta era già aggiudicataria. Grazie. 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 Grazie.